Con l'intervento di ripristino e difesa della rete fognaria partito in questi giorni a Cagli, si stanno concludendo i lavori di somma urgenza realizzati da Marche Multiservizi in seguito all'alluvione del settembre 2022 che ha colpito i comuni di Cantiano, Frontone, Pergola, Serra Sant'Abbondio e appunto la stessa Cagli. Da aprile, mese in cui sono stati approvati in conferenza di servizi i progetti e sono state impegnate le risorse, Marche Multiservizi ha realizzato 25 interventi per un importo complessivo di 5 milioni e 200 mila euro. Come ci siamo avvicinati subito alla sera dell'alluvione, come segno di vicinanza alla collettività devastata dall'alluvione, abbiamo proseguito nei mesi e nelle settimane successive procedendo alla rilevazione dei danni, alla progettazione dei primi interventi. Finora sono stati stanziati 2 milioni e 800 mila euro per interventi di ripristino nel settore fognare e depurativo e quasi 2 milioni e 400 mila euro per interventi di ripristino nel settore idrico potabile. Un lavoro che non è concluso. La prima stima dei danni rilevati sia nell'acquedotto sia nella rete fognare e depurativa montava oltre 40 milioni di euro. 5 milioni, come dicevo, sono già stati realizzati come sommo in urgenza. Ne restano molti altri, quindi saranno circa 35 milioni che dovremo investire sul territorio, che stiamo aspettando l'ok del Vice Commissario e quindi della Regione, in modo tale da partire con la progettazione esecutiva e poi relativamente procedere anche ai bandi di gara per assegnare i lavori e quindi completare quello che è un intervento infrastrutturale che ci deve consentire nei 5 comuni interessati a ripristinare totalmente anche migliorando la situazione previgente, quella che è l'impiantistica devastata dall'Urvione. Quindi è chiaro che i prossimi interventi saranno molto più importanti e necessitano anche un tempo un po' più lungo nella loro realizzazione, ma sicuramente consentiranno un rilancio complessivo del territorio interessato.